Buongiorno, mi chiamo Marcin Dombrovski. Voglio presentarvi il mio lavoro della tesi di laurea magistrale di architettura e innovazione dell'Università UOV di Venezia, discussa il giorno 24 ottobre 2019. The Lost Heritage, il patrimonio perduto. Questo lavoro è la ricostruzione storica della chiesa di San Geminiano in piazza San Marco a Venezia, un capolavoro di architettura del grande maestro Jacopo Sansovino. La chiesa è stata demolita sotto la dominazione napoleonica, si vuole far rivivere delle immagini decisamente impossibili della chiesa e della piazza e come questa si presenterebbe oggi se la chiesa non fosse mai stata demolita. Oltre alla ricostruzione in sé, c'è dietro uno studio delle opere d'arte contenute all'interno della chiesa, le quali in parte sono andate perdute, ma fortunatamente alcune sono ancora presenti e ricollocate nel territorio. Stiamo ora vedendo un volo virtuale sulla città di Venezia per la collocazione della non più esistente chiesa. La piazza oggi si presenta come tutti bene la conosciamo, ma una volta proprio lì sorgeva la chiesa di San Geminiano. Il lavoro è stato sviluppato in tre fasi, una prima fase di studio della storia ed analisi delle opere d'arte, una seconda fase di campagne di rilievo ed elaborazione dei dati ed una terza fase di ricostruzione attraverso modellazione e creazione di immagini impossibili. Cominciamo dalla storia della chiesa. Si ritiene che la chiesa abbia origini risalenti al VI secolo, tant'è che può essere definita come una tra le più antiche di Venezia. Nel 1106 San Geminiano viene distrutta dall'incendio. Viene poi ricostruita nel 1173 in un punto diverso della piazza che all'epoca veniva ampliata. Nella vista prospettica del De Barbari del 1500 si vede la chiesa nella sua veste precedente con una facciata gotica e un campagnile. Nel 1505 comincia la ristrutturazione da parte di Cristoforo Dallegname, i lavori però si bloccano e nel 1557 verranno completati da Jacopo Sansovino. La chiesa viene demolita nel 1807 per la costruzione dell'ala napoleonica come sede di rappresentanza reale con lo scalone monumentale e la sala da ballo. Esistono una serie di progetti per il nuovo palazzo reale tra cui di uno si è anche cominciato il cantiere per poi abbandonarlo, ma l'ala napoleonica come la conosciamo oggi è opera di Giuseppe Maria Soli. Stiamo ora vedendo una serie di disegni della chiesa tra cui quelli di Diedo, Cicognara e Selva, di Antonio Visentini ed infine le sezioni dell'interno di Vincenzo Coronelli. L'ultimo disegno rappresenta una sovrapposizione della pianta della chiesa con uno dei progetti di ricostruzione e solo in questo disegno si vede rappresentato l'angolo che si formava una volta tra le procuratie vecchie e la relativa ala di collegamento con la chiesa. È poi stata fatta un'analisi di tutte le opere d'arte presenti una volta all'interno della chiesa, in base ai testi di Francesco Sansovino e Cesare Zangirolami. Si tratta di affreschi, statue, dipinti, tra cui quelli di Tintoretto, Paolo Veronese e molti altri. Portelle d'organo, pale d'altare, gli stessi altari. Sappiamo anche che pezzi di pietre provenienti da San Geminiano sono serviti per la costruzione della chiesa nel nome di Gesù, in fondamenta di Santa Chiara a Venezia. Tra tutte le opere citate possiamo vedere quelle che sono state ritrovate e ricollocate. Vediamole insieme. La prima è l'altare maggiore, che oggi si trova nella chiesa di San Giovanni Battista appartenente all'Ordine dei Cavalieri di Malta a Venezia. Dai documenti conservati negli archivi dell'Ordine, ai quali è stato dato l'accesso, si evince che è proprio questo l'altare proveniente da San Geminiano e che è stato acquistato nel 1842 dai magazzini di Santa Margherita, dove temporaneamente era stato spostato per poi essere rivenduto. Poi un secondo altare. In questo caso si tratta di un altare minore, oggi presente nel Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra. Anche in questo caso abbiamo la conferma dei documenti dell'archivio riguardo alla provenienza dell'opera. È un altare marmoreo con un basso rilievo che rappresenta Gesù coronato di spine e due angeli ai lati. Ci sono anche due busti marmorei provenienti dalla demolita chiesa. Uno rappresenta Matteo Eletto e l'altro Benedetto Manzini. Tutti e due si trovano alla galleria Giorgio Franchetti all'Accadoro a Venezia. Sono state ricollocate anche le portelle d'organo di Paolo Veronese. Si trovano nelle gallerie estensi di Modena e rappresentano San Giovanni Battista, San Menna e Santi Geminiano e Severo. Quest'ultimo dipinto oggi si presenta come uno unico ma in realtà una volta erano due portelle separate che poi sono state unite. Un altro dipinto che rappresenta Sant'Elena oggi si trova nel deposito delle gallerie dell'Accademia di Venezia. Curiosa è la storia del dipinto di Tintoretto che rappresenta Santa Caterina. Il dipinto viene acquistato da David Bowie nel 1987 per la sua collezione privata. alla sua morte nel 2016 viene rivenduto all'asta e ora è esposto alla casa di Ruben di Anversa nel Belgio. Anche se proprio in questi mesi la pala è esposta al palazzo Ducale in una mostra temporanea su Tintoretto trovandosi nuovamente a Venezia dopo due secoli. Stiamo adesso vedendo la chiesa di San Maurizio a Venezia, oggi sede del Museo della Musica, progettata da Gian Antonio Selva, lo stesso che con Cicognara e Diedo rappresentarono San Geminiano. Il collegamento tra le due chiese sta nel fatto che la pianta di San Maurizio, pur non essendo identica, è fortemente ispirata a quella di San Geminiano. Campagne di rilievo ed elaborazione dei dati. Il primo rilievo di cui voglio parlare è quello dell'altare maggiore. Si è proceduto con un rilievo laser scanning prima segnalizzando con diversi target dei punti sulle pareti e poi effettuando alcune scansioni laser dell'altare. Il sistema di riferimento adottato è stato un sistema locale, ossia la prima scansione è stata considerata di riferimento e poi le successive sono state allineate sulla prima. Stiamo ora vedendo una breve animazione della nuvola di punti acquisita. Oltre al rilievo laser scanning è stato effettuato anche un rilievo fotogrammetrico attraverso due set di fotografie. I dati sono poi stati elaborati per ottenere una mesh poligonale dell'altare. L'altare è stato svuotato dalle tre statue ed elaborato come tale. Le statue sono state elaborate singolarmente per poter essere ricollocate nella loro posizione originaria. Anche le texture, ossia le immagini applicate ai modelli poligonali, sono state rielaborate e ripulite utilizzando uno specifico software. Come ad esempio è stata rimossa la croce maltese dalla statua di San Menna che originariamente non c'era. Tornando al posizionamento delle statue sull'altare maggiore, come le vediamo oggi sono posizionate in ordine. Al centro San Giovanni Battista a cui è dedicata la chiesa, mentre ai suoi lati San Menna e San Geminiano. Ma dai documenti dell'archivio dell'ordine di Malta risulta che San Menna originariamente si trovasse nelle nicchie di destra, poi San Giovanni Battista in quella di sinistra ed infine San Geminiano in quella centrale, in quanto la chiesa originariamente era dedicata a lui. Il successivo oggetto rilevato è stato l'altare minore, collocato in Villa Pisani. Il rilievo è consistito in un rilievo fotogrammetrico. Anche in questo caso sono stati applicati dei target per la successiva messa in scala dell'oggetto. Il modello ottenuto però necessitava di essere ripulito e in parte ricostruito, soprattutto nella parte alta, coperta dalle tende che non potevano essere spostate e quindi quella parte risultava impossibile da rilevare attraverso la fotogrammetria, Un altro rilievo fotogrammetrico è stato fatto alla Galleria Giorgio Franchetti a Laca d'Oro per ottenere i modelli dei due busti marmorei. Come è ben visibile nel video, le sculture presentavano un'illuminazione nettamente diversa dal lato destro e quello sinistro, ma anche questo è poi stato rielaborato in post-produzione. Sono poi stati rilevati per via fotogrammetrica due bassorilievi di leoni alati, uno installato appena fuori dalla porta dell'arsenale e visibile in facciata sui disegni di Visentini, l'altro è installato sulla facciata della Scuola Grande di Misericordia. Si tratta di due elementi non provenienti direttamente dalla chiesa, ma cui coppie molto simili sono visibili appunto sui disegni di Visentini. È stato effettuato anche un rilievo laser scanning della facciata dell'ala napoleonica e parti delle procuratie nuove e vecchie, ottenendo tre nuvole di punti. Da questo rilievo si sono ottenute delle ortofoto per la successiva ricostruzione dell'impianto, come esso si presenta oggi e come si presentava prima del 1807. Per la ricostruzione sono stati sfruttati i disegni di Antonio Visentini, realizzati ancora prima della demolizione della chiesa e considerati quindi i più attendibili. I disegni sono stati scalati in base alle scale grafiche in piedi veneti. Un piede veneto equivale a 34,77 cm. Sono stati ridisegnati i profili dei piedistalli, delle colonne, delle modanature. Tutto sia internamente sia esternamente. Il lavoro è stato fatto sfruttando sempre tutti i disegni contemporaneamente. Questo perché i disegni si presentano deformati, in quanto non sono stati scansionati su un piano, bensì fotografati da un libro aperto. Tutti gli elementi costitutivi della chiesa sono stati modellati oggetto per oggetto singolarmente attraverso le operazioni basilari della modellazione, quali estrusioni e rivoluzioni dei profili precedentemente creati. È stata completata contemporaneamente la facciata principale e l'interno della chiesa. Una volta finita la modellazione sono state posizionate anche le opere d'arte provenienti dalla chiesa, precedentemente rilevate. Si è poi passati alla fase di texturizzazione, ossia creazione e applicazione di materiali fotorealistici. Per ottenere tali materiali sono state applicate alcune texture di diversi marmi e inoltre sono state scattate delle fotografie ad alcune facciate delle chiese veneziane. Possiamo ora cominciare a vedere delle animazioni dell'ala napoleonica, come essa si presenta oggi e come si presentava ancora prima della demolizione della chiesa nel 1807. Si è voluto visualizzare la soluzione d'angolo adottata da Giuseppe Maria Soli tra le procuratie vecchie e l'ala napoleonica, oggi è l'ipotesi dello stato precedente, basata su quanto visibile nei disegni e sui quadri. È un problema che può essere ancora approfondito, anche per quanto riguarda la connessione interna degli ambienti tra le procuratie vecchie e l'ala napoleonica. Possiamo anche vedere la pianta ricostruita affiancata a quella di Visentini. Lo stesso vale per le sezioni longitudinale e trasversale che sono state riprodotte fedelmente. In quest'ultima sezione è poi possibile vedere anche l'organo sezionato, un elemento non visibile sui disegni di Visentini. Esistono però delle incongruenze tra i disegni di Visentini e i dipinti, tra cui quelli di Bellotto e Canaletto. Un esempio è la copertura. Nel Bellotto viene rappresentata con due falde, mentre nella sezione di Visentini sembra esserci una terza falda. Un discorso simile vale anche per le finestre in facciata. Sono state sviluppate tre diverse versioni, basate sul disegno di Visentini, sul quadro di Bellotto e su quello di Canaletto. Vediamo ora un primo allineamento della non più esistente chiesa in un timelapse in movimento effettuato in piazza San Marco. In quest'ultima fase di lavoro vediamo un approccio fotoralistico, partendo dalla facciata, che risulta essere mappata con le texture e si presenta come poteva presentarsi più di due secoli fa. Nella parte alta è visibile inserito il basso rilievo del leone a lato. Entriamo adesso all'interno della chiesa. Grazie a delle animazioni ed immagini statiche vedremo ricollocate le opere d'arte, come l'altare maggiore con le statue nella loro posizione originaria. Sfortunatamente non abbiamo alcun riferimento riguardo agli affreschi delle volte della copertura, per cui queste sono state lasciate vuote. È stato invece possibile inserire la palla d'altare di Santa Caterina, opera di Jacopo Tintoretto scalando opportunamente il dipinto. Lo stesso vale per la palla d'altare di Sant'Elena di Bernardino da Murano. Un'altra incongruenza riscontrata sta nel fatto che l'altare minore, oggi presente in Villa Pisaghi, sui disegni di Visentini è rappresentato più grande, con un secondo ordine di colonne. Non avendo però informazioni inerenti ad una possibile modifica dell'altare, sono state rappresentate ambedue le versioni. Sono stati ricollocati anche i due busti marmorei, quello di Matteo Eletto e quello di Benedetto Manzini, che sono posizionati ai lati della Cappella Maggiore. È possibile vedere anche la tomba di Giampietro Stella sul lato destro della chiesa. Non ci sono però dati che possano confermare dove e se la tomba è stata spostata, ma proprio per questa tomba, come decorazione, è servito il tondo del leone alato rilevato. Vediamo in quest'altra animazione una nicchia vuota sopra il portone d'ingresso. Dal testo di Francesco Sansovino risulta che proprio lì avrebbe dovuto esserci la statua di Melchio Michele, uno dei procuratori di San Marco. Non si sa dove sia finito l'organo monumentale della chiesa. Per questo lavoro è stato ricostruito in base ai disegni di Vincenzo Coronelli. Sono poi state inserite le portelle d'organo, visibili quando l'organo è aperto e anche quando esso è chiuso. Si è quindi cercato di ricostruire l'edificio e di ricollocare in maniera più veritiera possibile tutti quegli elementi di cui esistono delle informazioni confermate. Concludendo, si è arrivati ad avere delle immagini della chiesa come se questa non fosse mai stata demolita. Due secoli fa non si è dati l'importanza di preservare un capolavoro di architettura cinquecentesca di Sansovino, ma oggi, con le moderne tecnologie, siamo in grado di ricostruire digitalmente ciò che non esiste più. Inoltre, questa ricostruzione non ha un fine solo a se stessa ma verrà ancora ampliata. Potrebbe servire come esposizione museale e c'è di più. Si può ancora sviluppare una realtà virtuale in modo da offrire agli ipotetici visitatori di esplorare la chiesa in maniera immersiva. Ciò che stiamo vedendo è una provocazione. Una provocazione di un ipotetico pittore, come se fosse Canaletto oggi, che dipinge la piazza con ancora la chiesa presente, proprio come una volta facevano i grandi pittori. Grazie. Grazie.